Allora pronti? Team Aruba, Ducati, Davide Giuliano, hai già fatto dei test, siamo prontissimi? Sì, siamo pronti, pronti, pronti. Dai, adesso mancava solo la presentazione e poi la prima gara in Australia. Ok, la moto c'è e lì si dice che i tempi, insomma, ci dicono che è competitiva e perfetta per giocarsela con le quattro cilindri. Ma noi già eravamo abbastanza competitivi l'anno scorso, ci mancava solo un pochettino di passo che spero abbiamo trovato. Adesso abbiamo provato delle piccole soluzioni di setup e dobbiamo ancora provare tante cose in Australia, ma penso che abbiamo fatto un buon passo avanti. La moto è bellissima. È molto bella, sì. Senti, chi hai visto a Erez di ragazzi? Si parla di Jonathan Ray, i soliti, i nomi o c'è qualcun altro? Arrivano degli spagnoli carini. Ma sì, c'è Johnny che è sicuramente una bella arma, Tom, i soliti nomi. E poi sì, sono arrivati questi spagnoli dalla moto 2 e vediamo come andranno. Lo vediamo a Filippa Island e cerchiamo di capire che stagione sarà. Però ti vedo bello carico, pronto. Sarà una grande stagione, un pelota italiano, sono molto italiano, sponsor a Retino. Tutto iperitaliano, per me è bellissimo perché nutro una grande stima per il mio paese e sono fiero di essere italiano. Che bella dichiarazione per finire, è perfetta. Però l'ultima cosa, con i regolamenti, è cambiata molto questa superbike, è molto più lenta? No, non è lentissima, siamo abbastanza veloci, vediamo come andrà. Ciao. Ciao. Ciao.